Non ci riesce, se non ci riesce non lo so, dovrei chiedere perché non mi è mai successo quindi non vorrei dirvi delle stupidaggi. Io, come è? Però so che bisogna fare tutte e due, però una persona ha 40 di febbre, è chiaro che non ce la fa a farti la brocacica, a meno che non è un bambino, allora ha 40 di febbre e salta di qua e di là come un grillo lo stesso. Sarà anche le giorni che non ho mal di testa forte, ma no, no, non sono forse, se si potesse rivedere un'altra volta sarei più contenta per farlo meglio. Ma non vi preoccupate perché adesso lo rivedete e intanto lo fate, la scimmia vede e la scimmia fa, hai capito? Per cui lo facciamo insieme e io vi guido, però voi intanto lo fate perché solo se lo fate dopo lo acquisite. Ok, intanto andiamo piano piano, voi fate solo due movimenti, lì ne faccio cinque, per cui avete tempo di aspettare un attimo e di vedere che cosa succede, capito? E lo facciamo due volte, una volta per i due insegnanti, quello di prima e quello di dopo, ok? Quindi non vi preoccupate, poi ce l'avete sempre sopra il vostro gruppo e quindi potete riguardarlo, riprovarlo per conto vostro, per provare a fare l'interi, fare l'esercizio, per ricordarlo, non è complicato, soltanto che è una cosa nuova e c'è tanti passaggi, quindi appunto è riuscita e adesso che succede? Ti vedo là però ti vedete fuori. Guarda che c'è, l'hai vista la cioccolata? Come mai? Te l'ho messa nel frigo. Scusate, c'ho sempre il cane che deve uscire, schiaffo davanti alla finestra. Scusate, c'è sempre il cane che deve uscire, schiaffo davanti alla finestra. Allora ragazzi, spero che siate tutti in coppia perché io tra 10-15 secondi faccio per...